mi piace che rocchi quello che dovrebbe stare in base e se ne vado a puttane va a puttane guardalo va a cercare bravo grano tu che sei fottuta ella dovresti essere uno lasciamo perdere vai grano vai e uccide è il tuo momento hai l'operatore visto vai grano vai grano